Dopo una cavalcata con tre sole sconfitte in campionato, Dream Team, la squadra di basket maschile di Montichiari, si appresta ad entrare a far parte del campionato nazionale C1. Una grandissima soddisfazione, grandissima gioia, ripagato il lavoro e la fatica spesa da settembre, anzi diciamo da fine agosto fino ai primi di giugno. Una gioia immensa, personalmente enorme per il legame che ho verso Montichiari. Ho indicato ma non ho entrato in telecamera, Alfredo sa bene la passione personale verso questa squadra, l'attaccamento alla maglia, quindi personalmente è una grandissima soddisfazione, ma credo una soddisfazione in tutta la squadra per come si è svolto il campionato e per come siamo arrivati a questa vittoria. Sicuramente è ancora iniziato tutto l'estate scorsa quando abbiamo costruito la squadra con i giocatori che abbiamo preso, giocatori di una certa esperienza ma soprattutto anche uomini. Io non ho scelto giocatori solo per i tabellini, per le statistiche ma anche per il loro passato da uomini, da persone di fuori dal campo importanti e quindi poi il lavoro fatto in palestra, il gruppo che si è creato, l'armonia, tutti che andavamo per lo stesso obiettivo. Quindi vincere e comunque lavorare bene con le varie difficoltà, infortuni e non infortuni, abbiamo sempre lavorato tutti per lo stesso obiettivo, avendo fiducia loro nei miei confronti e io nei confronti loro e quindi la cosa è risultata quasi facile.